buonasera a tutti da parte del vostro mister lo sport del blog blogger Lorenzo il quale stasera porta all'attenzione per tutti i tifosi milanisti la lettura del comunicato ufficiale della curva sud milano il comunicato recita così ci spaventa vedere il minano finir mano a qualcuno che lo vede come un giocattolo e di queste ore la notizia della conferma dell'avvio la gestione del minano parte del presidente silvio berlusconi questa news ha creato in noi una serie interrogative e riflessioni molto importanti partiamo dal presupposto che nessuno ha dimenticato quanto di bello abbiamo vissuto in questi anni grazie alla gestione impeccabile della presidenza presente e costantemente entusiasta ma negli ultimi anni ci hanno davvero portato ad esaspirazione gli ultimi quattro mi hanno portato gran parte del popolo rossonero non noi sia chiaro la curva non molla mai a disinnamorarsi dei colori del milan questo è molto molto vero perché molti tifosi nel conflitto mi compreso che non fanno parte della curva sono arrivati al limite di pensare di non ti fare più il mio di non guardarlo più smettiamo di tifare l'emblema del decadimento è vedere uno stadio sempre più decisamente vuoto infatti la domenica è vuoto se non nel nostro settore siamo certi che la mano a gestione societaria da parte di galliani abbia la colpevole complicità nel nostro presidente che ha lentamente inesorabilmente lasciato sempre più potere in mano a questa persona giustissimo che non ha evidentemente fatto il bene del minimo infatti la curva chiede quello che chiedo io ovvero il licenziamento l'allontanamento di adriano galliano per la sua ma gestione per i suoi progetti fallimentari che vi ho illustrato nello scorso video che hanno portato a questa situazione ci sembra assurdo però che nessuno delle persone a lui più vicine abbia mai fatto pressione al fine di ripulire quello che è il gioiello più luccicante della famiglia berlusconi quello che è il simbolo di una famiglia vingente in salute e sempre pronta a tagliare nuovi traguardi non riusciamo a capire nemmeno se la cessione della società a dei fantomatici cinesi di cui nemmeno si conoscono l'identità posso ridare lustro al mine che nel frattempo somiglia sempre più a quello che erano le altre realtà con continui cambi di panchina e giocatori di medio livello infatti il mine al primo non ha mai cambiato al minatori e giocatori di medio livello sta facendo il contrario di quello che ha sempre fatto quanto di vero può esserci nelle stratosferiche cifre per il mercato di cui sentiamo parlare rischeremo forse che vadano a diventare ulteriormente il circolo vizioso dei procuratori e degli amici del signor galliani come avvenuto negli ultimi anni nello scorso video parlavo dei giochi copreziosi con minaraiola e quattro gente è questo che tuona la curva come si può essere tranquilli sulla sana gestione società se i presupposti sono legati alla presenza per almeno un trentennio che dopo aver letteralmente buttato 100 milioni in ultimo mercato è riuscito a niente di riciclarsi anche questa volta giustamente la curva si domanda come possiamo sperare che chi negli ultimi trent'anni e ancora lì possa rilanciarsi in questa in questa nuova avventura ci verrebbe naturale chiedere la gestione in questo momento ma ci spaventa di finire in mano a qualcuno che vedermina come un giocattolo che una volta che non piace più venga abbandonato con il rischio reale di vederlo sparire è una giusta considerazione qual è la curva perché c'è anche il concreto rischio di cinesi si possono stangare bisogna vedere questa cordata una volta che verrà ufficializzato il passaggio di proprietà cosa veramente ha intenzione di fare quindi dobbiamo aspettare cosa questi cinesi avvenuti di fare siamo anche però stufi della meteo che tratta degli ultimi anni e di veder lottare la squadra delle posizioni secondarie importanza dal decimo in giù e al settimo insomma siamo a un bivio vedere il Milan passare di mano e sperare un futuro radioso in mano dei proprietari al momento sconosciuti o sperare una famiglia a Bernusconi parliamo di famiglia a Bernusconi perché ci sembra a quanto meno doveroso puntualizzare che era ora toccherebbe a tutti i figli prendi in mano le reti nella società insieme al padre rinnovarla mettendo fondi cambiando i personaggi come i galliani che hanno fatto male e hanno fatto il male del Milan investendo su progetti futuri perché in Italia abbiamo visto che lavorando bene si può costruire squadre vigenti nel giro di pochi anni insomma la curva sud per loro non è importante cioè è importante chi ci sia che continui Berlusconi o che venga un altro gruppo ma quello che dico anch'io e come diciamo noi deve cadere di andarsi in una sola persona Adriano Galliani che è responsabile del fallimento di questi ultimi anni e dei giocatori assurdi che sono stati comprati negli anni scorsi come ho detto in un altro vino anche quando vincevamo c'era un giocatore che la maglia del Milan non aveva niente a che fare non capiamo come i figli possono completamente disinteressarsi del più grande amore del padre quello che ha dato lui grande soddisfazione e popolarità spingendo a 80 anni a cedere la società invece di aiutarlo e sostenerlo e a proporsi loro per prima la cessione della guida della società ci chiediamo quale possa essere il bene in questo momento ce lo chiediamo perché consapevole del fatto che il presidente per quanto abbia molte colpe ha sempre amato il Milan mentre chi potrebbe subentrare sarebbe persona non legata al mondo Milan e potrebbe rappresentare sia l'inizio della rinascita ma anche la fine di quel sogno che il nostro presidente ha diventato per 30 anni non trattando il Milan come una qualsiasi delle sue aziende ma come un fatto di cuore giustamente la curva sottolinea come i figli del presidente avrebbero dovuto maggiormente convincere il padre a non cedere o almeno di interessarsi di più alla gestione del Milan ripulendo la feccia che loro condivano riconoscendo Adriano Gagnani e magari fanno una società nuova sempre con la famiglia Berlusconi a comando ma senza più determinate persone comunque vadano le cose comunque vadano le cose la base ripartire da zero eliminando il marcio interno alla società e mettendo entusiasmi in quella che fino a pochi anni fa era riconosciuta nel mondo come la società numero uno quella vincente da cui prendere spunto per diventare grandi oltre che essere quella che si disperiva emittente i giocatori viziati che non sputavano sangue per quella maglia chiariamo sin d'ora che se dovesse avvenire il passaggio di consegne la presenza del signor Gagnani in un ruolo anche solo gestione deportiva sarebbe motivo di malcontento e aspettiamo un'ottenta analisi delle scelte da parte degli eventuali nuovi acquirenni è molto chiaro quello che dice la curva è quello che dico anch'io noi vogliamo l'allontanamento del signore Adriano Gagnani non dall'anno prossimo ma da questo istante che i cinesi facciano quello che noi vogliamo per una volta ascoltino il popolo la curva sud rappresenta il popolo milanista che ha un soltanto un solo grido cacciate Adriano Gagnani fatelo per noi sono anni che lo vogliamo fuori e quindi sto con la curva questo per ripartire col piede giusto dimostrare il reale cambiamento di culmina necessita quanto prima colmina nel cuore curva sud dominante questo è quello che ha scritto la curva e io lo sposo in pieno sono d'accordo con loro e quindi spero che domani 7 luglio ci sia un'altra contestazione per Adriano Gagnani lui deve andarsene deve andarsene dimettersi o essere licenziato e ora che si cambi per davvero ciao a tutti